Ciao a tutti ragazzi, sono AllGamesOne e oggi siamo qui in un quiz dove proveremo a indovinare tutte le bandiere del mondo. Il tempo è già partito quindi direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare perché non abbiamo molto tempo. All'inizio sono molto facili come vedete, c'è sempre però l'impedimento che bisogna scriverle in inglese e i nomi di parecchie nazioni non li ricordo. Quindi proveremo un po' a indovinare tipo la costa d'Avorio che è questa. No, Ivory Coast è in inglese, francese. Ivory Coast, ok. Bulgaria, Ungheria, si, Madagascar, Giappone, Corea del Sud, Bangladesh. Bangladesh. E quello se non sbaglio è Palau. Palau, infatti. Abbiamo poi Brasile, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Denmark, Danimarca, la Grecia, la Georgia. Quello invece dovrebbe essere Tunga. Tunga, sì, Malta. Può essere Panama? No. E allora è Dominican Republic. Repubblica. Ok, Repubblica Domenicana. La Cina. Vietnam, Camerun, che si scrive così. di Burkina Faso, Myanmar, Kosovo, Albania, Cipro e Bhutan. che negli scorsi quiz non sono riuscito a scrivere, adesso l'ho imparato. Libano, il Libano, Nepal, Vaticano, Vaticano, Switzerland, la Svizzera, Belgium, il Niger, Gabon, Israele, la Papua, Nuova Guinea, San Marino. Questa è la Repubblica Democratica del Congo, quindi la Repubblica Democratica del Congo, Turchia, poi Tunisia, Algeria, Pakistan, questa è la Mauritania, Italia, sì, Azerbaijan, questo può essere Comoros, sì, Libia, questa è la Malesia, questo qui è Luzbekistan, si stanno facendo un po' più difficili, poi là sotto c'è la Germania e la Spagna, vabbè, capisco perché non le avevano messe prima, comunque. Singapore, questo è Turkmenistan, Turkmenistan, sì, questo può essere Maldive, mi ricordo sì, questo è Loman, Arabia Saudita, Germania, che si scrive Germania, Spagna, Sudafrica, questo qui è il Sudan del Sud? Sì, Giamaica, poi Messico, India, Esuatini, Kenya, questo è Barbados, Austria, è molto Polonia, Bari, sì, e allora questa è Monaco, vero? No, l'Indonesia, allora, e questi sono tutti colori, questa è Monaco, Monaco è più stretta, è vero, questo è il Perù, quella lì, non lo so per niente, andrò con Yemen, infatti, Egitto, può essere Siria? No, perché i paesi del sud-est asiatico, hanno, del Medio Oriente, hanno tutti, questi tre colori, quindi è molto difficile, questa allora la lasciamo, no, non volevo fare questo, volevo fare questo, questa è Siria, ok, questa è, U, A, E, I criminali abbiniti, queste qui è, Palestina, no, Giordania, allora, Giordania, sì, quello è il kuwait e quello lì è non lo so per niente forse mi viene in mente questo forse è l'iraq si e questo qui è non lo so sinceramente sto pensando altri altri paesi di quella zona e non mi viene forse questa palestina no aspetta non era no non c'è proprio allora passiamo avanti tajikistan iran malawi quella è antigua e barbuda si argentina uruguay questa non la so mai nella vita macedonia non so neanche questo probabilmente se me la dice la so però adesso no filippine questa è kiribati può essere si questo è il kazakhistan questo qui è ci repubblica centroafricana penso non era questo non lo posso sapere questa qui dovrebbe essere auro venezuela e 6 shell questa qui è la repubblica of congo si questa è tanzania poi non la so questa qui non so neanche questa brunei bosnia bahamas bahamas eritea e non la conosco aspetta forse timon rest si stimo se scrive non lo so mozambico no e l'ho vista male tu cosa no 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 guinea guinea quatoriale può essere si la repubblica ceca che metto troppo a scrivere quindi andiamo avanti cuba panama cile liberia samoa quatra samoa miglia tiawan si allora questa samoa north corea laos capo verde belize questa può essere si quelle a iti Quella è Cambogia, Ilier, Nestein, non lo so scrivere, andiamo avanti, Paraguay, Serbia, Slovakia, Croazia, Slovenia, Costa Rica, Thailandia, questo è Luxemburgo, Luxembourg, Honduras, Micronesia, Somalia, El Salvador, no, El Salvador, si, Nicaragua, Estonia, Botswana, non mi ricordo se l'ho già sentito prima, Equatorial Guinea, però ci può, ah aspetta, questa è l'esoto, può essere? No, non è l'esoto, andiamo avanti, Angola, questa non è una nazione, scusate, ma che caspita è questa, passiamo avanti, Burundi, Belarus, Bahrain, Mali, Guinea, sì, Mali è questo, Senegal, Guinea, Bissau, no, non la, Togo, può essere Togo, allora è Benin, sì, forse questo è Togo, sì, questa è la Guinea, Bissau, oh, finalmente sta cavolo, Etiopia, Lituania, Bolivia, Ghana, Ghana, Suriname, Dominica, non la ricordo, non la ricordo, questa è l'Armenia, Romania, Chad, Colombia, Ecuador, Moldova, Andorra, Portogallo, Morocco, Kirjikistan, Uganda, Sri Lanka, Mongolia, io ragazzi vi devo salutare, quindi purtroppo non siamo riusciti a fare meglio di così, ciao ciao!